Il pallone è un po' guagliosa, penso che si può guardare qua. E' la rasta che non lo perdi. Chi ha fatto il gol? Cio Marco. Ha fatto Marco? No, ha fatto il passaggio. No, ha fatto il passaggio. Non mi sono mai 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 fatto il passaggio. E' la rasta che si può guardare qua. Sì, no! Sì, no! Sì, no! Sì, no! Sì! Sì, no! Io sali? Ho fatto il pò! Vabbè, fermalo! Avanti, avanti, avanti! Vieni papà, vieni papà. Ma perché non si riconoscono tutti i bambini così? Vieni un po' che lascia a me. Ma adesso ci andiamo, stiamo aspettando mezz'ora. No, non ti voglio dire. Ma se te l'ho detto e mi hanno rubato tutto, no? No, faccio una strage, guarda. Sono uno che non me la dico le cose. Io ora sto a scoprirci. Vedi la casa degli albanesi, però, eh. Io non tengo mica paura, io gioco quel problema. Se me ne accorgo chi è stato, faccio un danno a queste... Ci mando pure la casa dei bambini. Sto sentendo che... Che ha fatto io? Non me ne ho messo ora. Ma chi ne sa di non ti sa? Ma che va a fare? Ha fatto? Non mi lo scadere? No, ti rompo la testa, non mi lo scadere. No, non mi lo scadere. No, non mi lo scadere. No, non mi lo scadere.